salve a tutti sono micweb sono di qui e di nuovo per un nuovo tutorial molto semplice oggi vi faccio vedere come si può ottenere un certificato gratuito per la email in modo da firmare le nostre mesi come prima cosa apriamo in questo caso ci servirà safari visto che stiamo operando su un sistema mac l'indirizzo ve lo linko sulla descrizione andiamo sul sul a diciamo a ordinarci il nostro certificato per la email è un certificato gratuito 12 mesi della dell'azienda comodo eccolo qui dovete solo registrarvi con i vostri dati nome e cognome metto un nome fittizzo adesso metto micweb ad esempio metto qui tutorial l'indirizzo email di cui voglio ottenere il certificato in questo caso appunto metto tutorial chioccio la micweb punto info seleziono dove vivo la nazionalità in questo caso metto metto italia la qualità la lascio alta qui ci metto anche una password scelgo una password sarà e qui devo confermare la licenza come solito controllo messo tutto next non salvo la password non importa adesso attendo un attimo che mi arrivi una mail di conferma eccola qui la mail di conferma è già arrivata perfetto qui la mail che mi dice che mi sono registrato al servizio gratuito di comodo a questo punto confermo la registrazione vi raccomando in questo caso non cliccate sopra ma copiate il link apritelo con safari io ci ho cliccato sopra un attimo che copio il link e me lo ho ricevuto un'altra email ok a questo punto ok qui è già già arrivato il certificato per la mail perfetto come dicevo non cliccate non cliccate sopra copiate 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 il link e apritelo con safari con fairfox non funziona qui ho infatti ho già fatto qualche errore ci ho cliccato sopra e non funziona non funziona lo con il tasto di destra copio il link un attimo copio il link eccolo qui come avete visto il certificato è stato scaricato a questo punto andiamo sui nostri download e ci clicchiamo il certificato che è questo qui sotto in basso collect ccc p7s doppio clic eccolo qui si aprirà il portachiavi portachiavi login dobbiamo dire aggiungi dobbiamo semplicemente confermare eccolo adesso abbiamo confermato a questo punto bene siamo già a buon punto chiudiamo chiudiamo il portachiavi chiudiamo apple mail tendiamo a questo punto apriamo di nuovo un attimo eccolo qui devo chiudere prima il portachiavi altrimenti non esce apriamo usciamo da apple mail dobbiamo ripartire apple mail in modo che il certificato si configuri un attimo che apple mail sta ripartendo apriamo apple mail eccolo qui se tutto ha funzionato bene adesso se scrivo un'email ho qui alla mia destra il simbolo della firma che posso sempre aggiungere e togliere mi mando un'email a me stesso con l'oggetto certificato scrivo certificato a questo punto scrivo semplicemente qualcosa a caso testa email certificata spedisco la mail devo consentire importante devo consentire che l'email abbia accesso al portachiavi eccolo qui praticamente con questo certificato quando noi spediamo una mail a qualsiasi a qualunque firmiamo la nostra email con questo certificato smime si dice il destinitario della nostra mail potrà essere sicuro che sia una mail effettivamente spedita da me è un certificato gratuito 12 mesi non cancellate la email perché un mese prima che scada il periodo potete rinnovare il certificato quindi è un certificato sempre che dura 12 mesi può essere rinnovato gratuitamente lo trovo molto interessante adesso qui su app email non si vede molto che è una mail certificata o firmata però se avete se ricevete una mail su outlook compare alla destra di solito la lettera con il simbolo della letterina con con il simbolo che l'email è certificata ed è firmata in outlook se cliccate sul simbolo della 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 lettera potete anche vedere il certificato il nome di colui che ha registrato il certificato quindi è un modo secondo me molto sicuro per mandarsi le mail visto che ultimamente le mail sono sempre falsificate ci sono dei virus le cosiddette phishing maze quelle che cercano solo di imbrogliare specialmente le maze di paypal sono la maggior parte sono fasulle sono questi ecas che provano a rubarvi che cercano a provarvi i dati o anche se avete dei contatti molto sensibili con questo certificato gratuito avete la possibilità di spedervi delle mail firmate potete se anche il destinatario ha un certificato potete potete addirittura citografare le mail il contenuto viene completamente citografato in modo che non si riesca anche a leggere in modo interessante bene spero di essere stato utile vi ringrazio per l'attenzione ci sentiamo alla prossima grazie